e così eravamo la io e tuo papà a combattere feroci dinosauri dato che tuo padre non era tanto in forma quanto me quanto qualsiasi altro mammifero del pianeta è toccato a me salvare la tua mamma scusate che state combinando raccontiamo una storia pesca va bene basta che non sia troppo spaventosa torno subito ricordate non troppo spaventosa non l'hai detto comunque lascia che ti racconti l'altra parte della storia dove il coraggioso chiobac cavalca uno pterodattilo ancora ma di nuovo un altro livello di volo dove stiamo andando questa è una scorciatoia una scorciatoia piena di pericoli speriamo di sì vabbè altro livello mi sa che qua stiamo proprio lasciando velocemente hanno finito le idee per i livelli ha detto ah no ecco adesso non cammino adesso la sezione di volo vera fare una giravolta triangolo ok no era così bello ti giuro che era più bella la parte prima più che altro spero cos'è sta roba ma in realtà no però va bene prendilo ok sono i missili sticosi grazie ahia che male allora ammetto che forse questo potrebbe essere un livello dove qualcosa e anche di più lo perderemo ecco lì onesto questo livello non ho la sicurezza di vittoria totale ok io continuo a spammare ok grazie ok ok no alveare siamo nei guai oh no usa il turbo riduci il ok la barra del turbo lo dovrei lentamente smettere di usarla è possibile usare il turbo se la barra è vuota grazie un giro della morte una svolta oh preo cavolo no ok sezione libera di movimento cavolo spero non ci siano ripeto spero non ci siano cristalli in giro che io ora non vedo più che altro vorrei distruggere tutte le piante ora preso più che altro non mi sembra che in realtà il turbo sia molto utile sai non mi sembra sia così utile il turbo eh togli di mezzo i calabroni eh togli di mezzo i calabroni in realtà il vero problema non sono manco loro il vero problema qua fuori dai piedi sono più le piante che sparano anzi in realtà il vero problema di tutta sta storia sono i comandi ah cavolo che poi cosa mi serve il turbo ora che ci penso in tutta sta tutta sta sezione cioè onesto senza cattiveria nella mia domanda ma a che cacchio serve il turbo cioè non è che ci serve per scappare o altro alla fine anzi muoversi più veloce è quasi un malus qua è un malus veramente l'ultimo a spammare ok sezione finita uff madonna mia 3000 passacosi dalle ali della libertà ma non siamo ancora fuori dai guai eh lo vedo ok ce ne sono ancora e li vedo e stavamo pure andando d'accordo lo vedo maledetto zitto continua così continuiamo a sparare uff pianta 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 grazie oh difficilotta sta parte complessa nel paradiso dei vitici nel paradiso dei vitici prendi l'ultimo perfetto oh cacchio ci penseremo noi la luce andiamo verso la luce ok ecco perché i mammiferi sono creature superiori uff oh no razzismo oddio scappa ecco sid cos'è un sid il nostro amico me lo immaginavo più alto wow dobbiamo liberarcene disidio di loro ah non è ancora finito quindi dietro di noi si sta avvicinando molto rapidamente ah cosa devo fare siamo stati colpiti ah ma io devo ancora no aspetta attraverso gli anelli sconfiggi e le pietre oh cavolo ma perché nessuno me l'ha detto allora facciamo una cosa alla volta oh no cacchio vabbè io sparo per il momento che è la cosa più importante tanto cristalli li abbiamo già presi quindi non mi preoccupo grazie la vera preoccupazione sarà trovare tutti gli anelli cavolo la mia vera preoccupazione è proprio questa ecco qua no ok l'importante è che tanto non prendiamo danno andando tipo a schiantarci contro le cose quindi è l'unica cosa che mi preoccupa al momento grazie ma sai che mi sa che a vederla così ci sono tipo più anelli e più nemici di quanti e tu hai bisogno effettivo la butto lì è probabile poi dov'è un altro anello ci mancano degli anelli ce ne mancano due grazie allora andate mi sa che non l'hanno colpito ok dov'è l'ultimo anello manco fossimo nel signor degli anelli dov'è l'ultimo non lo vedo allora io intanto ah esatto a qualcuno sparo piano piano c'è l'Ibea aerea eccolo lì dobbiamo riuscire a liberarcene quindi ogni tanto qualcuno ti insegue anche eh prenditela con qualcuno nella tua taglia vabbè allora ogni tanto arriva qualcuno e ti insegue fine della questione cosa abbastanza pallosa e non puoi neanche usare il turbo per schivarli a sto punto mi viene il dubbio esatto ma se io li abbatto loro poi non ci seguono più giusto vai distruggi ah cacchio il vero problema è che sti fiori devi aspettare che si aprano prima di poterli colpire è difficile è difficile va bene iniziamo a preoccuparci di una cosa alla volta anche perchè sto turbo non serve a un cavolo di nulla non ti aiuta neanche a muoverti ah già ma è vero che posso fare le pirouette mi ero dimenticato di sta fissure talmente inutile ma aspetta posso fare anche oh ecco come posso forse evitare e no però quando ci fanno l'inseguimento credo che non puoi proprio fare le ste cose perchè non puoi usare il turbo ah cavolo dov'è 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 perfetto no dov'è l'ultimo allora ma che è difficile muoere allora si ho ragione sul fatto che ci sono più nemici di quanti te ne servono perfetto ci mancano infine gli ultimi fiori allora ce ne mancano 5 io ho bisogno di una fragola ce ne mancano 4 eccola lì una fragola prima però fiore perfetto ce ne mancano 3 eccone no quella è una fragola perfetto grazie che lo ripeto sto turbo non serve a nulla perchè non turba nulla non turba veramente niente eccolo lì e poi abbiamo tutti sti missili che neanche stiamo usando alla fine oh va bene non importa tanto non prendiamo danno sbattendo contro le cose ci manca quindi un ultimo fiore ci manca un ultimo fiore dove lo troviamo? allora in teoria forse in alto eh forse in alto vediamo ecco qua ah più in alto di così non si va ok dove lo trovo l'unfi eccolo lì trovato ah gira no gira al contrario perfetto oh finalmente fatta è durata più del dovuto e forza questo per restare senza fiato chi ha messo lì qui la parete di lava? qualcuno a cui non stiamo molto simpatici aiuto back va bene dai siamo quasi al completo tutto ciao 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 Grazie.